Davide Maser, di fronte alla prefettura per questo sciopero, per questa manifestazione provinciale degli addetti alla raccolta dei rifiuti, come sta andando? Siete soddisfatti della partecipazione? Siamo soddisfatti, siamo preoccupati, perché il problema vero è come vengono fatti gli appalti da parte delle istituzioni. Le regole ci sono, il problema è che la cultura di questo paese è che bisogna abbassare i diritti, bisogna abbassare i salari. Gli appalti dovrebbero servire per migliorare la qualità del servizio e questo raramente avviene. Gli enti locali puntano solo al risparmio e questo è il vero problema che esiste in un settore così delicato per le famiglie, per il paese, per tutto. Ecco, quindi cosa sperate di ottenere? C'è ottimismo dopo questo incontro, dopo questa manifestazione? Noi ottimisti non lo siamo ancora, bisogna capire come va l'incontro, che ci sarà tra poco la prefettura, però il problema vero sono le istituzioni, adesso in cui molti comuni di questa provincia si vota. Abbiamo chiesto degli incontri su come si fanno gli appalti, sarebbe importante che gli appalti venissero fatti sulla qualità e non sul fatto che le persone vengono sfruttate e che vengono abbassati i diritti dei lavoratori.